Continua la rassegna Grandinomi qui al Teatro Giolli di Olginate, questa sera Giacomo Poretti con Chiedimi se sono di turno. 15 anni di servizio ospedaliero, infermiere, di cosa parla lo spettacolo anche se nel titolo c'è già tutto? Esatto, nel titolo c'è tutto perché lo spettacolo è ambientato tra le corsie di diversi reparti dell'ospedale e racconta le vicissitudini di questo infermiere che all'inizio era un addetto alle pulizie e poi addirittura è diventato un infermiere professionale e quindi ci saranno tanti incontri con ammalati, le suore e tanti spunti anche molto divertenti. Quando è stato scritto c'era già il Covid o è arrivato dopo? No, il Covid è arrivato dopo, lo spettacolo è stato scritto quasi quattro anni fa, ha iniziato la sua tournée poi interrotta dal virus e adesso grazie a Dio abbiamo potuto riprendere. Quanto è importante questo mestiere? Lei che l'ha fatto? E' importantissimo, tutti quelli che hanno avuto la sfortuna di averne avuto bisogno degli infermieri e dei medici sanno quanto sono importanti ma è importante anche per chi lo fa perché l'esperienza umana è arricchiente, incredibile. Con Aldo e Giovanni quando? Con ogni probabilità, virus permettendo e complicazioni varie, quest'estate dovremmo fare un altro film. Dovremmo? Ciao, facciamo il giro anche stanotte del reparto, vediamo cosa mi ha messo qua. Oh madonna. Sto qua non ti era mattina.